Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpala. Un promontore anticiclonico proteso dalla penisola iberica sino alla Scandinavia si contrappone in un'area depressionaria sull'Europa orientale che convoglia una serie di impulsi perturbati da nord-est sul nord Italia comportando diffuse condizioni di instabilità. Il dettaglio oggi, venerdì 29 maggio, condizioni di instabilità con sviluppo di rovesci o temporali sparsi, possibile locale interessamento della costa. Il pomeriggio progressive schiarite a partire da Levante seppure in un contesto di residua instabilità. Venti tra deboli e moderati in regime di brezza sul centro Levante, orientali moderati a Ponente con raffiche fino a 50-60 km orari sui capi esposti in attenuazione nel pomeriggio. Mare mosso per onda da est-sud-est, localmente molto mosso a largo in calo dal tardo pomeriggio. Temperature massime in diminuzione lungo la costa tra 20-25 gradi nelle zone interne tra 19-21 gradi. Domani, sabato 30 maggio, al mattino in prevalenza sereno, poco nuvoloso con qualche addensamento nell'interno. Nelle ore centrali nuvolosità cumuliforme più diffusa con possibili rovesci o temporali sparsi nell'entroterra, più probabili sul Levante e in zona alpina. Venti tra deboli e moderati e prevalente regime di brezza. Mare poco mosso, temperature minime stazionare lungo la costa tra 13-16 gradi nelle zone interne tra 9-11 gradi. Massime in aumento lungo la costa tra 22-24 gradi nelle zone interne tra 20-22 gradi. Dopodomani, domenica 31 maggio, fino al mattino nuvolosità medio-alte irregolare in diradamento sul centro ponente, possibili locali rovesci nell'interno del Levante. Il sopraggiungere di un nuovo impulso di aria fredda in quota rinnoverà poi condizioni di instabilità nelle ore centrali associate ad attività termoconvettiva sui rilievi, possibili temporali sparsi dunque più probabili sul Levante, progressive schiarite nel corso del pomeriggio. Venti deboli in regime di brezza, locali rinforzi al mattino sul Savonese. Mare poco mosso, temperature minime stazionare e lungo la costa tra 14-16 gradi nelle zone interne tra 10-13 gradi. Massime stazionare e lungo la costa tra 22-24 gradi nelle zone interne tra 20-22 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal, sul profilo Instagram dell'agenzia. A risentirci!